Partiti. Per specialisti abbiamo visto nettamente la situazione all'ingresso in dirittura. Ed ora Balti Chistuara, all'esterno Violetta Fonga che ci prova. Poi Zebu all'interno del Marangon, Violetta che passa a metà retta. In seguito da Shafir Kodiak, Balti Chistuara di dentro dal Marangon, di fuori da Zebu. Violetta Fonga è in vantaggio. In seguito da El Marangon, Shafir Kodiak, Violetta Fonga lunga nel finale. E lascia Shafir Kodiak a superare El Marangon. Quarto Balti che quinto Zebu. Missione compiuta per Violetta Fonga, Antonio Domenico Mighelli per Dalino Pierdomenico. Assegno in questa prova. 1-5-4 è l'ordine d'arrivo. Nell'apertura di giornata è tutto. Nell'apertura di giornata è tutto. Nell'apertura di giornata è tutto.